Buongiorno ragazzi, come state? Oggi volevo farvi una specie di breve presentazione del problema tanto annunciato Antennagate Questo problema per quanto mi riguarda, nel senso, qua in Italia secondo me non c'è questo gran problema Magari, vabbè, dipenderà dalle zone Comunque, io senza bumper e anche con il bumper non ho di questi problemi E ve lo dimostro subito Innanzitutto col bumper Come potete vedere Il Scusate Il segnale A4 Provo a mettere Le mani Qua dove c'è l'antenna E non scende Al massimo di uno, non di più Cioè, uno, due tacche, non di più Vedete, cinque, quattro Non di più Cioè, Vodafone Non ha sti problemi Evidentemente è proprio questione di operatore Che magari in America è un po' diversa Però vi faccio vedere con il Simil bumper Perché è anche È proprio una specie di bumper però completo Cioè, è il classico bumper con tutto Cioè, ha completo di tutto Non è solo laterale ma È anche Posteriore È fatto molto bene Con anche la possibilità Della tele Della camera qua Nel senso di L'apertura Ha fatto tutto molto Ma molto bene Come potete vedere anche qua di netto Ok E Lo stesso Lo stesso con il Col bumper Se vedete Non so se riuscite a vedere ma Vedete Cala solo di uno e basta Ok Cordiali saluti Francesco Spero di essere stato chiaro